Una storia, un'avventura, che ha del vero dall'inizio alla fine, ve lo posso garantire. Un racconto, una cronaca che il significato di paura a voi farà riscoprire. Bramoso di morte il demonio si annoia, mentre un coraggioso soldato gridava Figli di troia un po' froci e un po' gay, perché cazzo l'aria stasera puzza di ebrei? Marciando fiero verso la sua direzione, incontrò un tale ed esclamò E chi cazzo sarebbe questo coglione? Sono Darius, di Noxus Generale. Via dalla mia lane, bustato animale! E il nemico si mostrò inferocito come un orco. Siamo contro gli asotop, Dio! Poco conta, piccolo fante. Ogni nemico in questa modalità è raccapricciante. Mostri in corsia, frecce accecanti. Gli orrori in questa modalità sembravano tanti. Ma stava arrivando qualcosa ancora più terrificante. Per mille Yasuo Bane, ma quel cancro è gigante! La bestia demoniaca, incarnazione della perfidia, distrusse il Nexus in un batter di cil... Fallito di un narratore! Pensi che questo sia terrificante? Adesso ti mostrerò gli incumi che mi tormentano in Ranked! E basta, costerine! Coglione! Che cazzo ingaggi, babbuino! Hai appena perso una corsia con Ustione! Vergognati, fallito! Che noia! Sto venendo a prendere i vostri venetani! Chiudete quella tristana! Non fatela scappare! Sto parlando con te, troietta frigida! Chiudi quella tristana! Dove cazzo è andata? Era proprio qui, tre seco... Un po' di privacy! Devo scopare! Vi starete chiedendo... Perché rektare player in massa in Ranked dovrebbe essere un incubo? Beh, non è questo il lato brutto! Com'è possibile che nessuno sa giocare contro Glad? Minion del cazzo... Fermi! Fermi! Il problema si pone quando quel bastardo dell'handicare durante il FIFA è più importante... Sta Toplane ad Affkfarmare! Torque! Quella grandissima puttana! O quando ti capita, Toplane, il main Anivia con Ignite! Che cazzo... Come cazzo ci giochi contro? Ma perché non te lo stai vintre in un uccello del... Del cazzo... Vager! Ho qualcosa! Sei il mid-genero o no? Oh mio Dio! Sono incassato! Dov'è il support? Curami! Sarei io il support in realtà... Aiutatemi! Ti ammazzo, Vager! Ma niente sarà mai più traumatico di quello scontro... Contro Xerath e la sua Ultimate! Oh mio Dio! Quel cerchio! Ah! Merda! Ok! Ah! Cazzo! Merda! Piovono! Piovono proiettini di merda! Oh mio Dio! Rado! Ah! Dio! Fermate! Fermate! Ti prego! Oh! Ti... Ah! Uh! Ah! Coglione! Ah! Sei un coglione! Xerath! Ci vediamo nella prossima vita! Bastardo! Sì! Sì! Flescia! Flescia! Ah! Coglione! Ci si vede! Coglione! Oh no! Di nuovo! No! Oh mio Dio! Levatemi di mezzo! Vi prego! Sì! Dio! Oddio! Ti prego! Coglione! Backflip! Uh! Sono Dio! Sono Dio! Jackson! Zucchiatemi tutti! Cazzo! Sì! È il miglior game della mia vita! Coglione! E ad ogni stronzo che commenta questa video dura troppo poco busserà la porta di vostra madre e chiederò dolcetto culetto! Puttana!